L'aureato in antropologia all'Harvard University nel 1964, alla morte del genito di un incidente aereo, eredita una discreta fortuna che investe nei suoi studi. Si iscrive al MIT di Boston per un corso di cibernetica applicata al linguaggio, si trasferisce a Parigi dove studia archeologia la Sorbonne, e a Firenze dove si iscrive all'Istituto di Belle Arti. Nel 1973 compie la prima spedizione con l'amico Sergei Orloff, trova nel 1978 nei pressi dell'India un uomo di Neandertal sopravvissuto all'estinzione e conduce un programma chiamato Mysteries of the Past. Questa è la presentazione che Alfredo Castelli dà di Martin Mister e che troviamo nei primi tre albi della serie, uscita, sappiamo benissimo, da aprile del 1982. E così dopo molte ore di volo e interminabile lezione sulla politica sovietica trasmesse in inglese e in russo dagli altoparlanti dell'aereo, il Tupulov giunge in vista all'aeroporto di Gerezmetievo, la cui costruzione fu conclusa in occasione dell'Olimpiade del 1980. Con molta lentezza e l'inizio e lunga formalità doganali per l'ingresso in territorio sovietico, i passaporti e visti vengono accuratamente controllati, un documento aggiuntivo permetterà di muoversi all'interno del paese, molto più tardi la coda si sposta alla dogana dove viene eseguito un rigoroso controllo sulla valuta importata. Questa è una descrizione che viene fatta dell'accesso che gli occidentali hanno a Mosca e che è tratto da l'albo numero 22 di Martin Mister Tunguska. Perché ho voluto fare questi due esempi così obsoleti ormai di Martin? Perché si dice sempre che Martin Mister sia un personaggio ormai alla frutta, che sia logorroico, che sia pedante, che sia privo di fantasia, tutto quello che vogliamo. Ho preso questi due esempi dal numero 1 di Martin e dal numero 22 per testimoniare che cosa? Che Martin Mister è sempre stato così fin dalle origini. Se nei primi tre albi viene riportato questa sua nota biografica, in cui si dice che Martin ha studiato alla Sorbona, ha studiato al MIT, ha studiato all'Accademia delle Belle Arti, ha studiato ad Harvard, conduce un programma televisivo, quindi fa le puntate in un programma televisivo, cosa che continua a fare anche nell'ultimo numero che è stato tanto bistrattato, si occupa di cibernetica applicata al linguaggio, antropologia, arti, belle arti, archeologia, misteri in generale. Martin Mister è questo. Nei primi numeri, né tanto decantati i primi albi che io ho qui davanti a me sulla destra e che sto vedendo in questo momento, Martin si è occupato di analizzare alcuni dei misteri più famosi che riguardano il nostro pianeta. A parte l'onnipresente guerra tra l'Atlantide e Mu, queste due misteriose popolazioni vissute prima della nostra civiltà e che fanno da sfondo soprattutto ai suoi primissimi albi, che poi rappresentano la trasposizione ai giorni nostri, o meglio giorni di allora, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, quindi la guerra globale tra le due superpotenze, la guerra fredda, si è occupato, dicevo, di vari misteri. Si è occupato di mummie, si è occupato di mostro di Frankenstein, di vampiri, si è occupato delle piste in Nazca, si è occupato addirittura di Babbo Natale, di come siano date le barzellette, il mostro di Loch Ness, l'Uomo delle Nevi, il Bigfoot, Etruschi si è occupato addirittura di misteri legati ai nuraghi, legati alla Sardegna qui in generale, si è occupato dell'esercito di terracotta in Cina, sto dicendo tutti quelli che mi vengono in mente adesso. Quindi Martin Misteri, si è sempre occupato di misteri, ma i misteri, quelli più tradizionali o quelli che più noi conosciamo, terminano. Motivo per cui, oltre a anche un tentativo di svecchiare un pochettino la testata, che era necessario fare, perché visto che lo sfondo di Martin era questa guerra perenne tra Atlantide e Mu, e che con la caduta del muro in Berlino non poteva più avere senso, si è occupato anche di altre cose, per esempio dei misteri italiani. Ma già nei misteri italiani, Martin, visto che viene contestato di non essere più uno scavezzacollo come prima, non era certamente quello delle origini. Perché? Perché Alfredo Castelli, da persona illuminata qual era, che cosa capì? Capì che il primo Martin all'Indiana Jones non aveva più senso di esistere, perché era fuori luogo. Se noi leggiamo oggi i primi albi di Martin, per esempio questo Tunguska che vi ho portato sul canale, è una bella storia, ma è una storia assolutamente superata al giorno d'oggi. Perché è vero che si analizza il mistero di Tunguska, questa misteriosa esplosione avvenuta nella Russia azzarista ai primi del Novecento, il 1908. Ma tutto il contorno storico-politico che vi era allora non ha più senso di esistere, perché non esiste più la cortina di ferro, non esiste più l'Unione Sovietica. Le contrapposizioni mondiali ci sono ancora oggi, ma di certo quella storia oggi non ha più senso, così come viene raccontata. E anche il modo in cui vengono raccontati i primi, diciamo, cento albi, se non qualcosina e meno, belli per quanto possono essere, questo è il numero uno di nuovo. Sono obsoleti perché è una trattazione dell'avventura molto anni Ottanta, ma che ha anche un grande retaggio che prende dagli anni Settanta. Del resto Martimister è un personaggio che Castelli ha ideato a metà degli anni Settanta, poi, dopo varie vicissitudini in Fito Labbonelli, ha iniziato le sue pubblicazioni come Martimister nel 1982, un personaggio che esisteva da almeno 5-6 anni prima. Quindi, dove volevo arrivare? Si siamo spostati ai misteri italiani, Martin, alla fine, tra l'altro, non a caso di questi misteri italiani, cambierà oltremente la sua vita, perché da scavezza con lo qual era, comincia a diventare più un professore in senso specifico del termine, non è più un avventuriero in quanto tale, o quantomeno all'Indiana Jones, ma rimane appassionato di misteri e affascinato da questo mondo. Sposa Diana, quindi la sua eterna fidanzata, che all'inizio oltretutto tradiva, poi diventerà sua moglie, addirittura perderà la Ferrari in un'esplosione, e più di una volta si libererà anche della sua arma a raggi, che poi tornerà, non tornerà. Stessa cosa Sergei Orlov, che per quanto fosse un personaggio affascinante, nei primi anni, con questa sua maschera di cuoio, con questo braccio meccanico, era comunque un pochettino ridicolo, se lo immaginiamo negli anni 90 e 2000. E infatti Sergei Orlov ha avuto le sue evoluzioni, fino a diventare quasi una persona normale, anche a livello fisico, di fisiognomica, in seguito degli interventi chirurgici che fece. Quindi, quando si viene a dire che Marty Mistero è un personaggio che è alla frutta, è logorroico, non ha più niente da dire, bisognerebbe conoscerne la storia, perché l'evoluzione del personaggio c'è stata fin dall'inizio. È stato qualcosa di lento, ma costante, su indicazione è lo stesso Alfredo Castelli, che ha rilasciato decine di interviste, decine di dichiarazioni, in cui diceva questo, ossia che Marty nelle origine non aveva più senso di esistere. E la testimonianza l'abbiamo. Se prendiamo la serie e cominciamo a leggere il numero 1, vedremo che già ben prima del numero 100 certe caratteristiche di Marty cominciano ad affievolirsi e a sostituirsi con altre, perché comunque il personaggio si è evoluto. E ad oggi, al netto di alcune cose che anche a me non piacciono, perché questo non vuol dire salvare tutto, secondo me Marty Mistero è un personaggio ancora che ha tanto da dire e ancora attuale. L'ultimo episodio in due parti il così tanto vituperato racconto del principe Rodolfo di Asburgo, il figlio di Sissi, secondo me è un buon racconto, è un buon racconto perché parla di un fatto storico, e anche questa è una caratteristica di Martin, fa riferimento a fatti realmente accaduti per poi interserci sopra qualcosa di fantasioso, come in questo caso il fatto che il figlio di Sissi fosse il vero padre di Adolf Hitler. Il fatto di di andare a raccontare un episodio non famosissimo a livello di immaginario collettivo, come potevano essere le mummie, le piramidi, Frankenstein, i vampiri, il mosso di Loch Ness, che sono misteri più commerciali, tra virgolette, ma che ormai sono stati sdoganati ampiamente nella testata, è stato utilizzato un racconto non famosissimo, ma comunque conosciuto, per intesserci sopra una trama. E quindi, da questo punto di vista, Martin ha fatto il suo, si è occupato di analizzare un mistero con la sensibilità tipica del personaggio. Poi sulla questione logorrea, di cui si parla tanto, vi ho citato appunto questo numero 22 con gli spiegoni. Martin Mister, su indicazione dello stesso Castelli, di cui di fatto era la trasposizione fumettistica, perché Alfredo Castelli per chi l'ha conosciuto, e io l'ho conosciuto, nel mio piccolo, avendolo incontrato un po' di volte, ovviamente, non voglio dire che fossimo amici, ci mancherebbe altro, però io l'ho conosciuto e l'ho sentito parlare. Alfredo Castelli parlava tantissimo, esattamente come Martin Mister. Gli spiegoni li faceva, esattamente come Martin Mister, ed era piacevolissimo sentirlo. Quindi, che oggi ci siano troppi spiegoni, ragazzi, i spiegoni di Martin Mister si sono sempre stati, è una caratteristica del personaggio. Il problema, secondo me, è che la gente non sopporta questo genere di narrazione, ma se non la sopporta, il problema non è Martin Mister che è sempre stato così, il problema è che il personaggio non fa per voi, cambiate testata, non avete la sensibilità giusta per leggere Martin Mister. E questo non vuol dire che chi lo legga sia un illuminato, semplicemente ci sono diverse inclinazioni. È come la questione fantascienza, ma la fantascienza non piace, quindi Jonathan Never non lo leggo, ma non andrei mai a dire che è un fumetto fallito, pessimo, da buttare, anche perché io non lo leggo. E secondo me molte delle persone che criticano Martin Mister lo criticano per principio, per partito preso, o perché magari hanno letto il corso della loro vita qualche episodio. Martin Mister non è più quello delle origini, lo dico e lo ripeto nuovamente, da 35 anni. Il Martin Mister è quello che noi immaginiamo, archeologo, scavezza-collo, è durato non più di 5-6 anni. Già prima del 1990 Martin Mister era molto cambiato. Ovviamente è stata un'evoluzione costante, progressiva, ma Martin Mister è molto cambiato. Ora, detto questo, voglio anche fare qualche critica, perché io non sono un difensore, uno streno difensore del personaggio per partito preso, perché se io credo che c'è sia gente che attacchi il personaggio e il partito preso, allo stesso tempo penso di essere sufficientemente lucido e oggettivo, visto che si dice che ci voglia essere oggettività, nel dire una cosa. Il Martin Mister di oggi a me soddisfa nella misura in cui soddisfano i fumetti di oggi. Ho fatto un paio di giorni fa un video in cui parlavo della Bonelli che siamo sicuri che prima fosse meglio o peggio. Voglio dire questo, perché è chiaro che avendo un canale è giusto che certe cose vengano dette, vengano esplicate e questi video servono a questo. Anch'io preferivo la Bonelli di una volta ma preferivano di una volta per quale motivo? Le storie erano migliori? Probabilmente in certi casi sì, ma non sempre, semplicemente perché le testate erano più giovani, gli autori erano più freschi, meno idee erano state utilizzate e quindi le storie risultavano essere più piacevoli di adesso, tanto che molti di noi tendono a ricordare le storie più vecchie. Nel caso di Martin Mister, quando tu nei primi cento numeri analizzi tutte queste storie dedicate ai misteri più famosi del globo, grazie al piffero che risultano essere interessanti, ma quando hai parlato di tutto e qui ci sta la grande forza del personaggio è quello di continuare a trovare dei misteri di cui parlare, nonostante oggi sulla carta sia più semplice scoprire certe informazioni. ma il fatto che le storie prima ci piacessero di più era perché c'era un senso di magico dettato dal fatto che non avevi internet per andare a scoprire delle cose ma le scoprivi sulle pagine di Martin o dovevi aspettare un mese prima di sapere di cosa avrebbe parlato la storia successiva. per esempio ricordo quando aspettavo acquistavo un albino edicola andavo a guardare come prima cosa il numero successivo come si sarebbe chiamato e fantasticavo oggi questa magia si è persa si è persa questa magia le storie non sono più fresche con una volta per forza di cose e questo è il problema della serialità e che attanaglia tutti i personaggi bonelliani non solo Martin Mister e terza cosa ancora più importante è che noi siamo cambiati siamo affezionati alle vecchie storie perché sono le storie a cui noi siamo legati dall'infanzia e dall'adolescenza quando avevamo la possibilità di stare a casa a leggere a non pensare ai problemi della vita e quindi ci appassionavamo la dimostrazione è stata in pandemia ho riletto tutto Dylan Dog di cui ero innamorato folle nei primi 100-150 albi mi sono piaciuti perché sono delle storie molto belle complessivamente ma non mi hanno lasciato quello che mi lasciavano quando ero un ragazzo stessa cosa a Martin Mister l'ho riletto tutto le storie mi piacciono ma con l'età che ho oggi mi rendo conto che sono storie superate belle per quanto siano ma sono storie superate Martin Mister di oggi è perfettamente inserito nel contesto in cui viviamo poi le storie possono risultare piacevoli possono risultare meno piacevoli non è detto che tutte vengono belle ma il problema fondamentale di Martin Mister è che Martin Mister è un personaggio adatto a certe tipologie di persone che hanno una certa tipologia di interessi se non vi piace se non vi piace leggete altro nessuno vi sta dicendo nessuno vi sta obbligando a leggerlo gli spiegoni ci sono sempre stati finiamolo con questo discorso gli spiegoni ci sono sempre stati ma dicevo prima di di fare di di perdermi in altri discorsi ci sono sicuramente delle cose da cambiare a me per esempio una cosa che non piace del martin di oggi e voglio capire dove si andrà a parare questo se hai un albo di 82 pagine perché evidentemente il costo di produzione non ti permette di farlo più lungo ma già mi sono risposto da solo alla mia domanda è questo perché inserirci il romanzo alla fine di cui non frega niente praticamente a nessuno me per primo ma questo non vuol dire che debba andare a strappare l'albo o debba buttarlo semplicemente a me non piace secondo me è un prodotto che non va bene nell'albo ma se viene fatto è perché per questioni di vendita o per questioni di accordi che avranno dovranno farlo però io che cosa farei eliminerei il romanzo allungherei un pochettino la storia fantasmagoria deve rimanere perché è senza stessa di martin mister il romanzo si può pubblicare in altre uscite assolutamente nessuno dice che non debba essere pubblicato però mi rendo conto che è un format che non interessa quasi a nessuno perché l'idea del romanzo a puntate oggi è assolutamente obsoleta se non è possibile per questione di costi gestire un martin mister in questo modo io parlo qui da semplice da semplice appassionato ovviamente sono mie considerazioni piuttosto sarei ben propenso che martin mister tornasse bimestrale che avesse un'unica storia invece che 80 pagine 160 e tornasse bimestrale piuttosto che rischiare che magari per qualche motivo debbano eliminare proprio la testata questi sono sfoghi queste ultime frasi che sto dicendo da da persona veramente appassionata al personaggio magari farò un video più approfondito su questi aspetti questo è quanto ragazzi cambiate testata se non mi piace lo dico sul serio non sto criticando non sto prendendo in giro nessuno se non mi piace cambiate testata perché cioè martin è questo martin è sempre stato così e Grazie a tutti